Questi video rappresentano i pattern essenziali con cui cimentarsi per affrontare in maniera completa il genere. Tutti gli esercizi sono eseguiti a due velocità e accompagnati dalla relativa partitura. Una volta presa dimestichezza con il pattern, consiglio di suonarlo almeno 20 volte di seguito senza fare errori, verificando le dinamiche dei singoli colpi, la fluidità di esecuzione e la costanza del tempo, con e senza l'ausilio del metronomo.